Sentire parlare con convinzione e costanza da parte di alcuni esponenti politici Blay di continuità territoriale per i siciliani aveva fatto ben sperare che si applicassero davvero le tariffe che agevolano i residenti nati in Sicilia per gli spostamenti nel resto della penisola. Una prassi più che consolidata da oltre due decenni per i cugini sardi ma che in Sicilia, a parte per alcune compagnie di bandiera che la applicano, non esiste una norma che la disciplina. Qualche settimana fa era stato annunciato un finanziamento ad opera dell'onorevole Nino Minardo che permetteva la cosiddetta continuità territoriale anche per i siciliani. Arriva invece la brusca notizia che sfiora l'assurdo. I 20 milioni stanziati in finanziaria per abbassare i costi dei voli e le tariffe dei biglietti aerei da e per la Sicilia serviranno solo per i collegamenti in elicottero tra Lampedusa e Pantelleria con l'aeroporto di Palermo e Trapani. E quindi non solo i fondi serviranno esclusivamente per lo spostamento dei siciliani per la stessa Sicilia ma il più la torre ne verrà anche tagliato completamente fuori. Vengono così vanificati 20 milioni di euro fatti arrivare dall'onorevole Nino Minardo per la continuità territoriale che andranno a finire solo su Palermo e Trapani per tratte in elicottero per Lampedusa e Ustica. Ma quando si parla di continuità territoriale si dovrebbe intendere un diverso coinvolgimento di tutto il territorio e tutti i siciliani viaggiatori che notoriamente non usano molto l'elicottero. La decisione non sarebbe ancora stata formalizzata e a fine mese previsto una riunione al Ministero dei Trasporti dove i cittadini siciliani sperano che prevalgano le ragioni di tutti e soprattutto si affermi il principio secondo cui i fondi servono ad abbassare le tariffe aeree dalla Sicilia verso il resto d'Italia ed Europa e non da un aeroporto siciliano ad un altro. Alle legittime aspettative dei residenti di Lampedusa e Pantelleria la regione dovrebbe pensare in altro modo con fondi specifici e dedicati e non con i fondi destinati a tutti. Grazie. 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 Grazie.